bene cari bambini vi saluto il cuore vedete ora a mie spalle un bellissimo presepio ecco fatto anche di legno e vediamo che ci sono i magi i pastori che camminano e salgono verso la culla di Gesù tra Maria e Giuseppe qua su questa salita ci mettiamo anche noi che andiamo verso Gesù a incontrarlo voi con i vostri genitori con i vostri fratelli e sorelle tutti assieme è importante che arriviamo verso Gesù perché chi arriva da Gesù si trova unito attorno a Gesù con Maria e Giuseppe e noi abbiamo bisogno in questo tempo di sentirci tutti uniti ecco proprio attorno alla culla di Gesù che è venuto proprio per riunirci tutti quanti quindi io vi auguro di cuore vi invito a salire per mano con la vostra famiglia e andare verso Gesù e lì creare una comunione con Gesù e tra di voi ecco un bel clima e allora su questo poi potremo fare festa ed essere sereni ecco questo è l'invito che vi faccio sperando che in ogni famiglia ci sia anche un bel presepio e poi partecipando in chiesa alla Santa Messa dove si incontra Gesù e così vi sentirete in festa in gioia uniti e con questo vi auguro un buon Natale e pregherò per tutti voi